Musica Soverei Mannelli continua a costruire il proprio futuro puntando sull'innovazione e creando relazioni istituzionali importanti. Oggi abbiamo avuto la visita del sottosegretario di Stato ai beni culturali e al turismo per valorizzare le tante risorse che anche nel nostro territorio esistono e che vanno promosse in un certo senso conosciute e risarcite. Il nostro comune cerca di lavorare in un'ottica di rete nell'interesse non solo dei comuni più prossimi ma anche nell'interesse di tutta la regione perché è fondamentale lanciare dei messaggi positivi valorizzando quello che c'è, puntando sull'innovazione e facendo tesoro delle esperienze positive che stanno maturando in tutta Europa. Ritengo che l'incontro di questa sera abbia già tracciato delle linee molto positive e concrete che matureranno nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Grazie a tutti.